buonasera eccoci al nostro consueto appuntamento con gli approfondimenti nella rubrica di arteventi news bene parliamo stasera di radio di radio d'epoca rimanendo in toscana esattamente a firenze nel 1931 con l'appuntamento per il radio auto raduno una serie di equipaggi si gareggiavano tra loro e le varie tappe portavano fino a roma bene ne parliamo con umberto allunghi ovviamente il nostro amico esperto di radio d'epoca e convertto in quelle gare ci furono vari equipaggi toscani che parteciparlo quale fu la loro avventura nella primavera del 1931 si organizzò il famoso radio auto raduno era un'iniziativa promossa dal real automobile club d'italia raci l'attuale aci con equipaggi su automobili che avevano in dotazione una radio ricevente a livello accentrato venivano date istruzioni sul percorso da compiere a tappe per arrivare per arrivare a roma al termine era stilata una classifica e premiava gli equipaggi più tendendo per tale coloro che avessero interpretata al meglio le istruzioni in ragione di tempo e di qualità di viaggio l'organizzazione di fatto aveva un po in animo la diffusione della radio che stentava nel suo auspicato percorso di crescita la volontà era di accederarne lo sviluppo puntando un po sull'effetto pubblicitario e sul trascinamento degli equipaggi automobilistici che oggi attività che oggi chiameremo co marketing il successo fu assicurato nonostante le anzie ovvie del risultato da parte degli organizzatori stiamo parlando di 200 itinerari 80 auto rimesse e 60 posti di controllo 20 traguardi 120 commissari 350 macchine con impianto radio 150 macchine aggregate altre 500 macchine aggiunte per un totale di 500 mila chilometri e 43 concorrenti il tutto è avvenuto senza alcuna penalizzazione a fine gara il 22 maggio al termine dell'evento vennero premiati gli equipaggi e per la toscana ce ne furono ben nove due a pistoia due a grosseto una pisa uno a viareggio una massa livorno e lucca per pistoia neanche a dirlo gli equipaggi avevano a bordo le radio tosi e boschero le famose radio industrie della provincia pistoiese al primo autoraduno ne furono seguiti altri denominati successivamente radio auto avio raduno perché ci fu anche il coinvolgimento degli aeroplani dal secondo in poi si è capitalizzata al meglio l'esperienza del primo evento e con i capi zona tutto ha funzionato per il meglio per la toscana la toscana bella così appellata in un bellissimo articolo dalla rivista l'antenna del 15 maggio del 31 i capi zona erano ben nove bene umberto rimaniamo a firenze e siamo nel 1935 dove in piazza della signoria vi fu una realizzazione del processo al savonarola il frate dominicano che fu posto poi a rogo nella stessa piazza della signoria ecco come fu realizzata questa rievocazione umberto a giugno del 35 piazza della signoria è stata teatro di una rappresentazione storica veramente importante che ha lasciato il segno nel mondo della radio il processo del savonarola il famoso o famigerato fustigatore dominicano l'elemento di novità di questo di questa esperienza prossima al pioneristico era dettata dal fatto che si stava lavorando per fare una diretta in contemporanea in contemporanea su più radio e su più programmi e quindi era un aspetto insomma di particolare interesse e di particolare rilevanza per assicurare una riproduzione la riproduzione dovuta sono stati installati qualcosa come 12 microfoni in vari punti della piazza due per l'orchestra quattro per le principali azioni due per le scene di massa una sulla loggia del palazzo vecchio e una sulla tribuna in mezzo al pubblico una presso la fontana del biancone una alla finestra del salone del 200 che nella fattispecie si stava prestando a cabina di regia le batterie dei microfoni che erano ovviamente tantissime erano inserite sotto le impalcature tutte le linee arrivavano appunto alla cabina di regia che era al salone del 200 attraverso anche collegamenti molto molto lunghi stiamo parlando di anche 150 metri e parte di queste di queste linee andavano sotto il celciato di piazza della signoria con dei tubi di piombo per ovviamente per ragioni di sicurezza nella finestra nei pressi della finestra del salone erano installati degli amplificatori e dei vari strumenti un'altra particolarità era il fatto che tutti gli operatori quindi dal regista a cameraman microfonisti e quant'altro erano vestiti come dei veri e propri costumanti proprio per poter contribuire a dare ancora di più il senso della rappresentazione storica della rappresentazione teatrale tutta diciamo questa questa opera è stata un grandissimo successo quindi si è passati dal pionerismo al fattibile e ancora una volta si è fatto un passo veramente importante in termini radiofonici per poter assicurare lo strumento quella fecondità che durante gli anni a finire avrebbe sicuramente avuto per poter assicurare lo strumento